Musica Economia, il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, fa il punto sul sistema bancario in Italia e la riforma salva banche. Economia, la Banca Montepruno al secondo posto come creatore di valore nazionale, presentato l'Atlante delle Banche Leader 2015. Ospedale di Polla, gli studenti degli istituti di Sala Consilina donano il sangue. Sala Consilina, domenica 13, l'Open Day per gli istituti di istruzione superiore Marco Tullio e Cicerone. Teggiano, sabato 12 dicembre, l'apertura della Porta della Misericordia presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. In primo piano l'economia, il decreto salva banche del governo Renzi, ha portato diversi italiani a perdere i propri risparmi. I recenti fatti di cronica, ultimo la storia dell'anziano di Civitavecchia che si è tolto la vita dopo aver perso oltre 100 mila euro, ha spinto diverse persone a puntare il dito contro gli istituti di credito. Il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, fa il punto sulla situazione del sistema bancario in Italia e sulla prossima riforma delle BCC che dovrebbe diventare presto legge. Che sta succedendo? Sta succedendo che a seguito della crisi il sistema nazionale si è trovato in difficoltà. Queste grosse banche, perché noi parliamo di Banca Popolare dell'Etruria, alcune casse di risparmio, Banca delle Marche, di Chieti, di Ferrare, eccetera, sono banche che hanno e avevano centinaia di agenzie, cioè era tutto il cuore della Toscana, dell'Umbra, tutta l'Italia centrale. Allora è andato in crisi questo sistema perché non sono state messe in sicurezza quando devono essere messe in sicurezza. Cioè da febbraio la Comunità Economica Europea ci ha detto che non si possono più utilizzare soldi pubblici per salvare le banche. Negli anni passati, in particolare la Germania, ma anche la Francia e la Spagna, hanno messo in sicurezza le proprie banche prendendo soldi pubblici, mettendoli nelle banche, togliendo le sofferenze e hanno risanato. E oggi sono partite senza il fardello delle sofferenze. I sofferenze sarebbero i cattivi pagatori che ci sono da tutte le parti quando c'è crisi. Questo sistema in Italia non è stato fatto, è stato fatto soltanto col mondo dei Paschi, pensando che tutto l'altro sistema delle banche fosse a posto. Invece non è stato così e non è così. E ci siamo accorti adesso che quattro di queste banche, diciamo locale, tra le più importanti dell'Italia centrale, sono andati in crisi e i primi che ci hanno rimesso i soldi con questo decreto che ha fatto il governo, che ha evitato il fallimento, diciamo che ha garantito in qualche modo i posti di lavoro, però il patrimonio che mancava per sopperire alle sofferenze è stato preso dai risparmiatori, dagli azionisti soprattutto e dagli obbligazionisti subordinati. Cioè quelle obbligazioni che sono servite per fare patrimonio alla banca hanno perso tutto. E si parla di circa 800 milioni di euro, che non è pochissimo. Allora che hanno dovuto fare adesso? Con questi 800 milioni più tutte quante le altre patrimonio che avevano questa banca hanno dovuto prendere le sofferenze e hanno fatto questa bad bank, una banca cattiva che poi metteranno sul mercato svalutandola all'80% e salvando poi la gold bank, la banca buona che sarà assorbita da queste banche che sono intervenute. Può essere Unicredito, può essere Intesa San Paolo, Ubibank eccetera. Queste banche ci hanno messo della liquidità, ma l'hanno messa perché poi la parte buona di queste banche la rileveranno loro. Ora noi, andando così, non è primo caso e non sarà neanche l'ultimo purtroppo, perché si è operato sempre pensando che potesse intervenire lo Stato quando c'era la difficoltà. Anche la nostra Costituzione dice che lo Stato tutela e garantisce risparmio privato, però lo garantisce con delle condizioni nazionali, ma qua si parla di normativa europea che hanno una forza maggiore rispetto alla normativa nazionale. Quindi neanche la normativa nazionale può farci niente quando c'è una disposizione a livello europeo. Ora questo è un grandissimo problema, se ne viene fuori come? Non è semplicissimo, semplicemente noi vogliamo dare anche un messaggio di tranquillità. Lo so che non è facile, perché queste banche che sono saltate non erano banche che avevano 5 sportelli, 7 sportelli, 8 sportelli. E quindi non è che in assoluto avere 100 sportelli è sinonimo di solidità. Sinonimo di solidità invece è guardare gli indici della banca che sono molto evidenti e che sono pubblicati. Le banche che sono solide, che hanno determinati richiesti patrimoniali e le banche che non lo sono. A livello nazionale c'è una graduatoria, ma anche a livello del credito cooperativo. E allora perché questa riforma è importante, fondamentale ed essenziale del credito cooperativo, che dovrebbe andare in vigore e noi l'abbiamo già condivisa dall'inizio? Perché tutte le banche devono essere messe in sicurezza con un organismo superiore, come si fa questo discorso di una holding, dovrebbe essere l'ICREA, alle quali tutte le banche appartengono, ognuna con un peso specifico e con una visibilità in base ai suoi indici patrimoniali, che però garantisca e mette in sicurezza tutti i risparmiatori. Restiamo sull'economia, cambiamo argomento, parliamo adesso della banca Montepruno che mantiene e supera se stessa nella classifica degli istituti di credito creatori di valore d'Italia. È stato infatti pubblicato l'Atlante delle banche della 2015, realizzato da Milano Finanza Italia Oggi, che ha promosso l'istituto di credito diretto da Michele Albanese come la seconda banca minore creatrice di valori di tutta Italia. In un periodo in cui le banche sono al centro dei fatti di cronaca, sentir parlare di banche virtuose fa bene al morale, ancor più se l'istituto di credito in questione opera nel territorio a sud di Salerno, come la banca Montepruno. Come ogni anno, Milano Finanza Italia Oggi hanno stilato una classifica delle migliori e più efficienti banche presenti su tutto il territorio nazionale. L'istituto di credito diretto da Michele Albanese, già lo scorso anno, si era distinto posizionandosi al terzo posto nella speciale classifica dei creatori di valore delle banche minori. Quest'anno migliora ulteriormente, andando a piazzarsi al secondo posto e scavalcando quindi la banca Santa Giulia di Brescia. L'Atlante delle banche 2015, in edicola con i quotidiani Milano Finanza Italia Oggi, ha posto a confronto i bilanci di 85 gruppi bancari e di ben 551 istituti di credito italiani. Il risultato ha portato la rivista a celebrare anche quest'anno gli ottimi risultati della banca Montepruno in campo a sostegno dei clienti, ma comunque con una gestione attenta ed oculata. Andata da incorniciare per la banca Montepruno in provincia di Salerno, il commento riportato sull'Atlante delle banche 2015 per celebrare il secondo posto dell'istituto di credito diretto d'Albanese, che ha fatto cambio di posizione con la banca Santa Giulia. Nel corso del 2014, si legge, il bilancio della banca Campana ha evidenziato un balzo in avanti del risultato di gestione di tutto rispetto, più 27%, mentre il ROE è cresciuto poco meno del 10%, bene anche l'aumento dei mezzi amministrati, cresciuti in 12 mesi del 15%. Nella sezione dei creatori di valore l'Atlante presenta una sezione contenente gli istituti di credito che hanno migliorato sensibilmente i mezzi amministrati ed i risultati reddituali. Tra i 550 istituti che compongono il campione sono stati scelti quelli che nell'ultimo triennio non hanno conseguito valori negativi a livello di margine di intermediazione, risultato di gestione e utile netto. Fatta questa prima selezione, sono rimasti in ballo 329 banche che sono stati suddivise in quattro categorie grandi, medie, minori e piccole sulla base del valore dei mezzi amministrati. I dati esposti rilevano come la banca Montepruno con un rating pari a 8,30 sia la prima banca campana in base alla classifica creatori di valore. Oltre a generare anche un pregevole risultato su base regionale, la banca Montepruno proprio a livello territoriale si segnala per detenere uno dei migliori rapporti sofferenze nette su impieghi pari all'1,65%. Ottimo anche l'indice di redditività generato. Ben motivata quindi è giusta la soddisfazione espressa per i risultati conseguiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Miscia e dal Direttore Generale Michele Albanese. Ci piace condividere con tutti questi importanti risultati fanno sapere perché testimonia ancora una volta la bontà delle scelte e delle strategie aziendali poste in essere. Il miglioramento rispetto all'anno scorso è figlio di un'intensa azione e sostegno del territorio senza mai dimenticare gli equilibri di bilancio e la crescita delle grandezze. La nostra banca, spiegano, continua a testa alta nel suo percorso di sviluppo confermandosi un istituto di credito cooperativo virtuoso e di alto standing capace di alimentare valori positivi ogni anno con grande professionalità mettendosi sempre a disposizione dell'intero sistema valutando con cura e senso del dovere le diverse opportunità che il mercato ci ha prospettato e ci prospetterà senza protagonismi ma con la chiara consapevolezza di essere una realtà di primissimo piano nel panorama del credito regionale e non solo come confermano i dati espressi anche dall'Atlante delle Banche leader che punta al meglio a tutela dell'intero circuito con il quale opera quotidianamente. Cambiamo argomento andiamo all'ospedale Luigi Curto di Polla dove un gesto di solidarietà verso chi ha bisogno è stato fatto questa mattina dai neo diciottenni che frequentano gli istituti delle scuole superiori di Sala Consilina i ragazzi accompagnati dall'associazione Fraters preseduta da Benedetto Mazzariello hanno di fatti questa mattina donato per la prima volta il sangue presso il centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto ad accoglierli il responsabile dell'unità operativa di medicina trasfusionale il dottor Carmine Oricchio ma anche il direttore sanitario del notocomio pollese il dottor Luigi Mandie che si è voluto addirittura congratulare personalmente con questi ragazzi che appena maggiorenni hanno subito aderito alla campagna di raccolta sangue ogni volta che facciamo delle iniziative che vedono impegnati i ragazzi quindi i giovani è qualcosa sempre di positivo soprattutto poi quando tutto verte sul sociale quindi anche sulla donazione del sangue penso che riveste ancora maggiore importanza abbiamo fatto questa raccolta straordinaria per due motivi fondamentali uno perché giustamente i donatori è arrivato a una certa età e quindi debbono purtroppo andare in pensione e ce ne sono tanti che hanno donato hanno fatto già da tanto tempo il loro dovere e quindi dovrebbero rientrare delle forze nuove noi cerchiamo di fare queste giornate di raccolta e oggi la facciamo appunto con il geometra e il classico dell'istituto Cicerone quindi di Sala Consilina e soprattutto sui ragazzi giustamente maggiorenni per far capire loro qual è l'importanza e quindi per proseguire naturalmente la donazione del sangue e per sostituire in un certo senso anche i donatori che purtroppo non possono donare più per sopravvenuti limiti di età purtroppo anche l'ospedale di Polla che sta sobbendo tagli inverosimili e naturalmente anche la regione Campania dal punto di vista diciamo della donazione ha fatto anche il suo perché non ci ha permesso di poter andare nelle sedi opportune dove prima facevamo le raccolte perché stiamo diciamo accreditandoci e quindi quelle sedi non sono ancora accreditate per cui certamente il numero dei donatori il numero delle donazioni che facevamo l'anno scorso due anni fa è diminuito notevolmente e quindi noi ci adoperiamo la domenica o diciamo nei fini settimana a fare delle raccolte diciamo straordinarie proprio per sopperire a quello che non possiamo fare durante la domenica durante i festivi come facevamo prima e naturalmente tutto questo perché? perché sempre per favorire le persone bisognose quindi coloro che hanno bisogno di sangue i giovani ci insegnano ci insegnano con la loro disponibilità con la loro cultura ma soprattutto con la loro condizione come dire di apertura che è tutto ciò che coglie in un momento soprattutto di grande difficoltà me in una maniera particolarmente propensa ad essere disponibili verso questi giovani penso però forse di poter proporre che dovremmo esserlo tutti quanti noi adulti disponibili verso i giovani perché come ho sempre pensato è nello stare insieme nell'apprendere da tutti nello stare vicino ai giovani che dobbiamo cercare di trovare una condizione come dire di miglioramento per quella che oggi la necessità veramente giusta di dare qualcosa a questi ragazzi stiamo stiamo a stare la consiglina parliamo ancora di scuola in programma domenica 13 l'open day una giornata di orientamento dove conoscere tutte le attività e gli istituti ricadenti sotto la regia della professoressa Maria Luisa Buono in questo open day infatti la dirigente scolastica invita i ragazzi a partecipare e anche le famiglie a partecipare per vivere un percorso collaborativo ma ascoltiamo il dirigente scolastico è un momento importante ci rendiamo conto anche difficile di scelta perché è una scelta che avviene in età precoce cioè intorno ai 13 anni cioè il ragazzo va in terza media però in realtà è molto difficile che abbia le idee chiarissime molte volte c'è anche la famiglia che lo aiuta noi come vogliamo fare per aiutarlo noi vogliamo aprire la scuola apposta di domenica così che gli studenti i futuri studenti possono venire nelle nostre scuole accompagnati dalle famiglie perché è giusto che questa scelta sia in qualche modo condivisa noi apriamo e ci presentiamo in tutte le nostre scuole quindi dall'antico liceo Marco Tullio Cicerone che si trova appunto nella zona più centrale di sala agli altri due grandi plessi che sono quello dell'istituto tecnico con i suoi laboratori e dopo qualche metro si trova l'istituto per geometra che ospita anche l'agrario e l'agrario ha anche una serra e un oliveto e vogliamo che i ragazzi vadano con le loro famiglie in tutte le nostre scuole perché l'offerta nostra è amplissima quindi è giusto che un ragazzo con la famiglia le visiti e perciò teniamo aperto sia domenica mattina dalle 10 alle 13 sia domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 in modo che i ragazzi abbiano il tempo magari un po' il mattino un po' il pomeriggio di visitarli tutti e quindi farsi un'idea parlare con i docenti parlare con la dirigente quindi vi aspetto vi aspetto perché io cercherò di stare in tutti questi plessi se no cercatemi perché io sono disponibile a spiegazioni e soprattutto a suggerimenti andiamo a Teggiano dove in occasione del giubileo straordinario indetto da Papa Francesco anche la diocesi di Teggiano Policastro parteciperà all'anno santo dedicato appunto alla misericordia domani è prevista l'apertura delle porte della misericordia delle cattedrali di Teggiano e Policastro rispettivamente domani a Teggiano e il 19 a Policastro Nel giorno della festività dell'Immacolata Concezione si sono tenute le celebrazioni dell'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano che apro ufficialmente l'anno santo del giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco apritemi le porte della giustizia Nella diocesi di Teggiano Policastro l'apertura delle porte della misericordia delle cattedrali di Teggiano e di Policastro Bussentino si terranno rispettivamente il 12 e il 19 dicembre domani a Teggiano i fedeli si raccoglieranno presso la chiesa di Sant'Agostino alle 16 e 30 per poi raggiungere in processione la cattedrale a seguire il vescovo della diocesi Monsignor Antonio De Luca aprirà la porta della misericordia e celebrerà la solenne concelebrazione eucaristica anche la cattedrale di Policastro avrà la sua porta santa che sarà aperta sabato 19 dicembre l'appuntamento per chiunque volesse prendervi parte è alle 16 e 30 presso le antiche mura da dove il corteo raggiungerà la cattedrale dopo l'apertura della porta della misericordia i fedeli potranno partecipare alla solenne concelebrazione eucaristica in occasione dell'inizio del giubileo straordinario indetto da Papa Bergoglio anche la diocesi di Teggiano Policastro parteciperà all'anno santo dedicato alla misericordia un giubileo insolito perché per la prima volta nella storia per ottenere la totale remissione dei peccati non sarà più necessario recarsi in Vaticano ma grazie alla volontà di Papa Francesco ogni diocesi avrà la facoltà di aprire una o più porte sante dove i fedeli potranno recarsi per ricevere l'indulgenza plenaria seconda parte dell'edizione serale delle Uno News ripartiamo da Salerno dove si è riunito in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che è chiamato intorno ad un tavolo per pianificare le strategie necessarie ed evitare caos e disordini in questo fine settimana in cui si annuncia in realtà molto complesso per via della concomitanza di tre diversi eventi Vertice in prefettura questa mattina per la pianificazione del prossimo fine settimana che se possibile si annuncia ancora più complicato e complesso di quello che abbiamo appena messo alle spalle e sul quale da tempo si erano focalizzate le attenzioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica il mix rappresentato da Lucida Artista la partita della Salernitana la Reiki contro l'Ascoli e l'apertura della Porta Santa al Duomo fa tremare vene e polsi agli amministratori necessario dunque un momento di ulteriore confronto tra le parti intanto a differenza di quanto era stato ipotizzato è rimasta fissata per sabato alle 15 la sfida tra Granata e Bianconeri circostanza questa che cumulata all'arrivo dei bus turistici nel parcheggio della Reiki fa sicuramente temere notevoli disagi occorrerà fronteggiare la contemporaneità e lo si farà attraverso una suddivisione delle aree di parcheggio tra tifosi e visitatori superate le difficoltà rappresentate dalla gara di campionato di Granata che anche alla luce della situazione di classifica calamiterà sicuramente l'attenzione di tantissimi sostenitori di casa ai quali si aggiungeranno poi diversi ultras provenienti da Ascoli si attuerà per la serata di sabato lo stesso piano traffico già sperimentato con successo nello scorso fine settimana con la chiusura dinamica a seconda dei flussi di traffico delle strade d'accesso al centro della città e il conseguenziale dirottamento sempre verso la Reiki anche delle auto private oltre che dei pullman sempre questa mattina invece è stata protocollata la richiesta del comune di Salerno di anticipare a mercoledì 23 dicembre così come originariamente da calendario la partita tra Salernitana e Cagliari che come è noto posticipata giovedì 24 dicembre alle 13 sempre per evitare pericolosi incroci con luci d'artista ha suscitato non pochi malcontenti il comune si è detto infatti pronto a fronteggiare le eventuali difficoltà molto probabilmente dunque la richiesta sarà accolta per quanto riguarda invece il giubileo anche a Salerno in provincia come è noto saranno aperte le porte sante delle cattedrali in città la meta principale sarà il duomo dove al termine di una processione che partirà alle 15 dalla chiesa dell'annunziata l'arcivescovo Moretti aprirà la porta principale ai fedeli che accorreranno da tutte le parrocchie della diocesi si parla di almeno 6.000 persone che raggiungeranno nella mattinata di domenica a Salerno a bordo di autobus organizzati che saranno però tutti parcheggiati nella zona porto rientriamo nel Vallo di Diano andiamo a Tegiano da alcuni giorni ha preso il via ufficialmente la Kermes Natalizia intorno al Presepe un progetto confinanziato dalla regione Campania che ha consentito di creare tutta una serie di eventi per favorire il turismo invernale a Tegiano la rassegna presentata sabato scorso presso il castello Macchiaroli ha però suscitato malumori all'interno del gruppo insieme per Tegiano con i consiglieri Trezza, Marina e Babino che hanno pubblicato un manifesto lamentando in primis il mancato invito alla presentazione e il poco coinvolgimento nella organizzazione degli eventi sul gruppo Facebook insieme per Tegiano è apparso un manifesto a firma dei tre membri del nuovo gruppo costituitosi Lisa Babino Mario Baldo Trezza capogruppo e Sonia Marino all'indomani dell'accensione delle luci in piazza San Cono e lo spettacolo inaugurale del duo comico Gli Artetica che ha visto la piazza gremita i tre consiglieri pubblicano un manifesto lamentando la mancata opportunità di collaborare alla realizzazione della manifestazione come amministratori si legge nel manifesto ci sarebbe piaciuto dare il nostro contributo alle manifestazioni che stanno per avere inizio soprattutto per condividere con serenità i momenti di festa insieme alla comunità che abbiamo l'onore di rappresentare secondo quanto riferiscono sembra però che da quattro mesi ed esattamente quindi dal momento in cui è stato costituito il gruppo autonomo ai tre non è dato partecipare all'attività amministrativa e quindi agli incontri svoltisi per l'organizzazione degli eventi natalizi sul manifesto si legge che tre non sarebbero stati invitati alla presentazione della rassegna natalizia in tal senso però giungono voci contrastanti sembra infatti che ad essere stato contattato è il capogruppo Mario Baldo Trezza che avrebbe dovuto poi trasferire l'invito anche agli altri componenti esattamente come sono stati invitati anche i membri della minoranza il lungo manifesto a firma di Trezza Marino e Babbino entra successivamente nello specifico del progetto cofinanziato dalla regione Campania per 155 mila euro e dal comune per 20 mila euro ricordando che parte del contributo è stato utilizzato per la riqualificazione dell'antico seggio medievale con 40 mila euro impiegati secondo il gruppo il cartellone di eventi però sarebbe povero in un periodo di incertezza si legge riconoscendo le difficoltà in cui si opera si è obbligati a seguire con particolare attenzione in tempi ristretti per non rischiare di perdere i finanziamenti ci sia consentito però un piccolo appunto continuano gli iscriventi ci saremmo aspettati un calendario di eventi più consistente considerato che lo scorso anno impegnando una somma di gran lunga inferiore si è realizzato secondo quanto affermano gli stessi un calendario più ricco si passa quindi a ricordare uno degli eventi clou del cartellone dello scorso anno con il Flute Festival realizzato in collaborazione con l'ente provinciale per il turismo e promosso dal flautista Antonio Cimino non viene invece ripercorso il programma di questa seconda edizione partito con il grande successo degli Artetica con la realizzazione grazie alla proloco di Teggiano del presepe medievale e l'apertura delle taverne in piazza che verrà riproposto con cadenza settimanale il concorso a premi per gli studenti realizzato in collaborazione con la banca Montepruno e l'attesissimo concerto del coro gospel che anche quest'anno farà da cornice al Natale di Teggiano grazie all'interessamento e all'impegno del presidente della proloco Enrico Maria Amelio il manifesto a firma dei membri del neocostituito gruppo insieme per Teggiano Sonia Marino lo scorso anno protagonista dell'evento natalizio nella sua veste di assessore alla cultura Lisa Babbino e Mario Trezza conclude con gli auguri per il bene della comunità si legge auspichiamo al più presto un'aggiunta operativa come la città di Teggiano merita auguriamo buone feste felici anno nuovo da trascorrere nella serenità delle proprie famiglie con l'auspicio che la luce del santo natale indirizzi l'agire di tutti al conseguimento del bene comune entra intanto nel vivo il cartellone di eventi legati alla rassegna intorno al presepe tinerari di luci e storia la manifestazione vuole essere non solo un evento di divertimento ma anche e soprattutto promozione del territorio e delle sue eccellenze tra le importanti attività previste il tipico mercatino di Natale che domani sera sarà inaugurato alle 17 in piazza San Cono con le casette che accoglieranno ed è regalo per questo Natale 2015 con ampio spazio dedicato ai prodotti enogastronomici dell'artigianato del Vallo di Diano gli eventi che vengono realizzati nell'ambito della Kermes cercano inoltre di coinvolgere tutte le borgate di Teggiano in quest'ottica sempre domani sabato 12 dicembre dopo l'inaugurazione e l'apertura ufficiale dei mercatini in località Pantano di Teggiano è prevista l'accensione dei Falò di Santa Lucia arricchito da spettacoli e stand gastronomici l'organizzazione è stata curata dall'associazione Il Falò di Teggiano e durante tutte le festività natalizie Teggiano offrirà concerti spettacoli animazioni e il presepio vivente in due versioni quello classico organizzato dal circolo camminare insieme a Acli che si terrà il 27 dicembre a San Marco di Teggiano ed una versione in costumi medievali realizzata dalla Proloco di Teggiano che si svolgerà presso l'antico seggio sito in Piazza San Cono nei giorni 13, 20 e 26 dicembre ed ancora il 2 e 3 gennaio Cambiamo argomento grande festa ieri a Padula per i cento anni di Assunta De Martino arrivati anche per lei gli omaggi dell'amministrazione comunale e del circolo sociale Carlo Alberto 1886 Ieri sera grande festa a Padula per i cento anni di Assunta De Martino nata il 10 dicembre del 1915 in prima guerra mondiale e sposatasi nel 1945 sul finire della seconda guerra mondiale una memoria storica di cui essere orgogliosi e meritevole di grandi elogi come sottolineato dal sindaco Paolo Imparato che ieri sera insieme all'amministrazione comunale ha voluto partecipare ai festeggiamenti organizzati presso l'osteria dell'Oca a Padula Scalo in onore di Nonna Assunta omaggiandola con una targa in ricordo e un dono floreale a dimostrazione del profondo affetto mostrato verso la donna che da anni risiede nel centro storico con la sua abitazione confinante alla casa comunale ieri sera una grande festa con un ricco buffet è stato organizzato per festeggiare l'importante traguardo raggiunto da Nonna Assunta circondata dall'amore dei suoi quattro figli Maria Angela Giuseppe Alfonsina i suoi dieci nipoti e i cinque tra pochissimo sei pronipoti a voler festeggiare i cento anni di Nonna Assunta anche il circolo sociale Carlo Alberto 1886 il presidente Felice Tierno infatti per l'occasione ha regalato alla festeggiatora pergamena che ha segnato la data dell'importante compleanno a testimonianza dell'affetto profondo per la donna memoria di un'intera comunità Nonna Assunta di Martino oggi compie cento anni quali sono i racconti che più spesso vi ripete quello che posso dire mamma è nata il 10-12 del 1915 la prima guerra mondiale è sposata nel 45 è abitata sempre qui a Padula è nata e abita qui a Padula io sono l'ultima figlia noi siamo quattro figli mia mamma è stata sempre una donna molto forte molto lavoratrice molto contenta dei figli che ha tutti intorno e niente ha una famiglia che la vogliono bene tutti quanti qua siamo qui presente nella vita lei ha fatto la condadina cioè con i suoi genitori faceva la condadina poi dopo che si è sposata con mio padre ha fatto la casalinga ma tantomeno ha cresciuto noi i quattro figli ma si è dedicato lo stesso alla campagna all'orto al giardino è stata sempre forte forte di carattere non si è fatto mai abbattere da nessuno né dalle critiche di niente e con i nipoti cosa fa? cosa dice? come li tratta questi nipoti? no li tratta normale come tutti i nipoti li vuole bene a tutti quanti sia i nipoti diciamo così più vicini sia i pronipoti perché ci sono molto pronipoti una decina di nipoti proprio la più piccola sono cinque la più piccola è un anno si passano 99 anni è un secolo a dire la verità è il secondo centenario che festeggiamo tra l'altro è una mia vecchia conoscenza perché lei è un ex coltivatrice diretta che ha sfruttato al meglio la pensione la pensione dello Stato sì evidentemente ho il mangiar bene di Padula ma di tutto il territorio del Vallo di Diane l'ambiente di Padula e forse mi dicevano precedentemente anche la vicinanza del Comune perché lei sta proprio vicino al Comune a qualche qualche metro dal Comune evidentemente il Comune e forse l'amministrazione comunale il Sindaco porta bene visto i cento anni l'augurio che possa continuare ancora per tanti anni per quanto mi riguarda per lei e soprattutto per i figli per i nipoti per i pronipoti sono unici sono rari quindi è un patrimonio della nostra storia della nostra memoria tu ricordavi la prima guerra ma anche la seconda guerra come mondiale penso un poco lei come ha vissuto l'anno del fascismo della seconda guerra come mondiale è tutta una memoria che va conservata ma soprattutto va conservata da parte dei figli e dei nipoti ed ora lo sport nel prossimo servizio andiamo a vedere quali saranno gli impegni delle compagini valdianesi impegnate nei campionati di prima e seconda categoria vigile di campionato nella prima e seconda categoria nel girone G di prima categoria dopo il pareggio nel recupero di campionato contro il Real Palomonte prosegue la rincorsa al vertice per il Montesano la squadra di mister Pidone sarà impegnata nel non complicato campo del Real Contursi Terme in un match sulla carta semplice non dovrebbe avere grosse difficoltà nemmeno la capolista Santa Cecilia che ha raccolto nella serata di ieri le dimissioni del DS Guariglia campo principale sarà quello di campagna dove il Real Palomonte riceve il campagna scontro tra seconda e terza forza del campionato per quanto riguarda le altre valdianesi in programma c'è il match casalingo per il Certosa di Padula che anticipa al sabato contro il Pro Palinuro di Bomberdinka gara esterna invece per la Pollese che se la vedrà sul campo del Rofrano in quello che ha tutti gli effetti uno scontro diretto nel campionato di seconda categoria Girone L fa ripuntati sul comunale di Atena Lucana dove il Pro Atena riceve la S di Sassano per il match di cartello di questo weekend sfida casalinga per l'alta valdianese il Sant'Arsenio che tra le muramiche contro il Joy cerca il terzo successo consecutivo nel Girone e con lo sport si chiude l'edizione serale del Uno News io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ringrazio